buongiorno e ben ritrovati ad occhio ai giornali e questa l'edizione di lunedì 7 ottobre 2024 e come consolidata abitudine andiamo a sfogliare il calendario e individuiamo quella che è la ricorrenza religiosa del giorno si onora oggi la beata vergine del rosario una delle più tradizionali e celebri importanti raffigurazioni nelle quali la chiesa cattolica venera maria vergine rappresentata con una veste azzurra e una corona del rosario tra le mani l'origine della madonna del rosario è stata attribuita all'apparizione di maria san domenico nel 2000 nel 1208 a pruviglia nella primo convento da lui fondato la festa fu istituita con il nome di madonna della vittoria da papo pio quinto a ricordo della battaglia di lepanto nella quale la flotta della lega santa formata da spagna repubblica di venezia e stato della chiesa sconfisse quella dell'impero ottomano i cattolici attribuirono il merito della vittoria alla protezione di maria che avevano invocato ricitando il rosario prima della battaglia il successore papa gregorio xiii la trasformò in festa della madonna del rosario e andiamo adesso a vedere che il sole oggi è sorto alle 7 e 11 tramonterà alle 18 e 39 prima di andare a scoprire anche che tempo farà sole sporcato da qualche nuvola in mattinata nuvolosità che subirà poi un'intensificazione nel corso in particolare del tardo pomeriggio e della serata quanto alle temperature già nella giornata di ieri si è registrato un rialzo nei valori massimi che verrà sostanzialmente confermato anche nella giornata di oggi ed occupiamoci adesso delle notizie che trovano più ampio spazio questa mattina sui quotidiani locali come sempre lunedì largo spazio allo sport e minore attenzione ai fatti della cronaca e della politica concentriamoci inizialmente sul corriere adriatico che torna a dedicarsi agli scavi di via vitruvio è tutto fermo spero che le indagini ripartano l'auspicio è formulato dall'imprenditore che sta ristrutturando lo stabile al cantiere bloccato paolo antonioni questo è il nome dell'imprenditore ripercorre le tappe del percorso che si è sviluppato da che sono stati individuati alcuni importantissimi resti nell'area in cui appunto si era insediato il cantiere l'iter è iniziato con l'avvio da parte della sovrintendenza regionale della procedura tendente all'acquisizione del palazzo coinvolgendo il ministero dei beni culturali quest'ultima volta trasmesso la richiesta di impegno di spesa al ministero delle economie e delle finanze nella frattempo la sovrintendenza fa notare ancora il corriere adriatico riportando le dichiarazioni di antonioni ha effettuato una stima di massima interna che dovrebbe essere precisata dalla agenzia del territorio regionale la prima stima monta circa 600 mila euro vedremo che cosa si deciderà a livello regionale questo riguardo appunto al valore di quell'area il cantiere è stato bloccato ricorda ancora il corriere ed è iniziato un interminabile iter che è appunto mirato all'acquisizione di tutto lo stabile di proprietà di una ditta privata che lo stava ristrutturando i primi ritrovalenti fa ancora rilevare il corriere adriatico risalgono al mese di gennaio 2023 pur essendo una zona sensibile dal punto di vista archeologico aggiunge antonioni non immaginavo che venissero effettuati simili ritrovamenti la zona scoperta retrostante l'edificio era già stata indagata con il georadar fornendo risultati di scarso rilievo l'obiettivo iniziale dell'imprenditore era quello di ricavare uno stabile con cinque appartamenti di cui due molto grandi la cifra sulla quale si sta ragionando appare sottodimensionata anche alla luce delle spese che sono state sostenute dal privato per l'acquisto dell'aria e per l'avvio del cantiere pari a un milione e cento mila euro corriere adriatico che torna a trattare anche il tema della zanzara tigre dei casi di dengue lo fa in continuità rispetto a quanto la stampa locale ha ovviamente fatto nelle ultime settimane zanzara tigre seconda disinfestazione è quella che è stata programmata per la prossima notte a partire dalla mezzanotte il corriere adriatico menziona le aree che saranno interessate da questo secondo intervento che fa seguito a quello eseguito la scorsa notte in particolare ci si concentrerà sulle aree più centrali di fano gimarra trave paleotta poderino san cristoforo don gentili liscia madonna ponte e zona dell'ospedaletto san lazzaro zavarise centro storico ponte metauro baglia metauro tombaccia e ancora stazione ferroviaria sassonia e lido in totale coinvolte quattro ditte saranno impiegati tre mezzi e intanto c'è la contro replica del virologo burioni a davide rossi ex assessore afano che aveva denunciato un eccessivo allarmismo e aveva invitato il sindaco ser filippi a prendere posizione contro chi in qualche modo alimenta questo allarme leggiamo dal corriere adriatico davide rossi ex assessore comunale fanese non si preoccupa della deng ma di burioni che dice che a fano c'è la deng e non invita il comune a prendere provvedimenti e i fanesi a non avere paura certo che afferma lo stesso burioni i politici in italia li scegliamo tra i migliori sempre dal corriere adriatico anche lo stato in cui versa la sala della cultura inaugurata soltanto qualche mese fa spazio ricavato all'interno dello stabile palazzo nolfi che insiste su viarco d'augusto lì dove una volta si tenevano le udienze quando ancora insisteva in quel sito il tribunale ebbene le cose non funzionano al meglio ascensore fuori uso e infiltrazioni troppi disagi alla sala della cultura l'affermazione arriva dal presidente dell'università dei saperi lucarelli che chiede un intervento urgente in particolare viene lamentato come l'accesso alla sede dell'associazione che appunto si trova all'interno del palazzo e alla sala della cultura entrambe al primo piano è reso complicato dal fatto che l'ascensore in avaria da circa una settimana e da quando la luce dello scalone va e viene a suo piacimento qualcuno si è ritrovato al buio sui gradini all'improvviso e ha rischiato un capitombolo i problemi sono già stati comunicati agli uffici competenti con una lettera risalente a circa un mese fa fa sapere ancora lo stesso lucarelli che nell'occasione ricorda il volume dell'attività dell'università dei saperi grimaldi in particolare si sta registrando un notevolissimo incremento delle iscrizioni che stanno superando quota 500 in calendario per la prossima stagione ben 114 iniziative dedicate ai più diversi fronti quanto alla sala della cultura lamenta fin dall'inascita un problema relativo all'impianto audio avrebbe bisogno di un adeguamento acustico per la sua funzione di luogo deputato ad incontri pubblici viene fatto notare. Sul resto del Carlino l'unico tema trattato riguardo a Fano continua ad essere quello delle risorse che sono state destinate in questi anni alla Proloco per organizzare e gestire eventi. Fano il caso Proloco fiumi di soldi per anni nessuno segnalò anomalie. Il virgolettato è attribuito all'ex presidente della commissione controllo e garanzia scoppelliti che in realtà afferma solo una parte di quanto riportato nel titolo dice scoppelliti non ho mai ricevuto sollecitazioni politiche per affrontare questo tema sentivo solo chiacchiere da bar su quello che tutti chiamavano l'assessorato delle sagre il riferimento è all'assessorato e al turismo e agli eventi all'epoca in cui nella precedente amministrazione era gestito da Etienne Lucarelli quanto invece al consigliere comunale dei 5 Stelle Panaroni all'opposizione oggi come allora sottolinea come nelle cose che abbiamo tenuto d'occhio è stato verificato che non c'era niente di illecito solo un atteggiamento definito inopportuno politicamente sottolinea Panaroni riguardo appunto al fatto che Lucarelli venisse appunto dall'esperienza al Proloco prima di assumere l'incarico di assessore al turismo e agli eventi parla anche il segretario comunale della Lega Brandoni che registra come il centro-sinistra stesso abbia bocciato le modalità amministrative della delega totale al Proloco occupiamoci adesso invece degli argomenti relativi a Pesaro in primo piano sul resto del Carlino l'andamento della stagione turistica in particolare in questi mesi di inizio autunno il legame ancora una volta con Pesaro capitale della cultura 2024 alimenta opinioni divergenti Pesaro 2024 e il turismo l'autunno alberghiero non vola presenze in linea con il passato viene sottolineato almeno da una parte degli operatori l'effetto capitale della cultura si è visto ma adesso non starebbe lasciando tracce significative Marco Filippetti presidente di APA sottolinea in queste settimane non vediamo trend particolari parla anche l'ex presidente dell'associazione Oliva che rileva documenta ancora il resto del Carlino come Pesaro capitale della cultura abbia portato qualche presenza in più ma durante l'anno la maggioranza sono situazioni abituali il problema secondo Oliva è che Pesaro è una città brulla mancano molti servizi da offrire ai turisti serve maggiore elasticità anche da parte di chi gestisce i siti e i luoghi turistici della città occupandoci invece delle pagine che il Corriere Adriatico riserva al capoluogo in primo piano il tema della bonifica dall'amianto di alcuni luoghi pubblici e privati amianto bonifica urgente ma serve un monitoraggio la commissione ambiente convocherà marche e molti servizi sullo stato delle tubazioni idriche a sollecitare un'iniziativa forte il consigliere comunale dei 5 stelle in maggioranza lugli in qualità di presidente della commissione ambiente un ordine del giorno propedeutico ad un piano di smaltimento quello presentato da lugli serve infatti una mappatura puntuale su base annuale affinché i tecnici e il servizio comunale e ambiente possano elaborare un piano accurato che tenga conto da un lato della pericolosità dei siti con presenza di amianto dall'altro delle priorità di intervento caso per caso al centro dell'attenzione in particolare i capannoni dismessi a muraglia ci aspettiamo afferma lugli un intervento di rimozione da parte della proprietà che è urgente come è noto nei giorni scorsi l'amministrazione comunale è messo un bando con il quale si intendono erogare contributi a fondo perduto a vantaggio del privato che voglia effettuare un'operazione di questo tipo la cronaca ci riporta invece al caso della donna invalida al 100% che è stata sfrattata con la forza 10 giorni di prognosi per lei la donna che intanto ringrazia il personale dell'albergo dove è stata alloggiata si è fatta male ad una spalla nel tentativo di opporsi allo sfratto invalida appunto al 100% la donna fa notare il Corriere Adriatico ha già dichiarato di non voler essere trattata come un caso umano ritenendo di avere ragioni legittime per essersi opposta alla forza pubblica questo provvedimento di sfratto venendo invece sempre dalla Corriere Adriatico ai cantieri che occupano buona parte del territorio comunale pesarese ci si concentra sull'asilo che dovrà essere costruito a Torraccia 10 le imprese in gara e 456 giorni per finire l'opera la nuova struttura avrà 90 posti per le esigenze dei quartieri a nord della città l'amministrazione dovrà avviare anche le modifiche alla viabilità della zona informa ancora il Corriere Adriatico che in un'apposita tabella riproduce anche il contenuto dell'operazione finanziata dai fondi dell'Unione Europea Next Generation contributo massimo da 2 milioni e 160 mila euro 10 appunto le aziende in gara entro il 31 ottobre dovrà essere aggiudicato il lavoro l'avvio è previsto entro fine anno conclusione dei lavori per tutte le opere finanziate dal PNRR la deadline è la stessa 31 marzo 2026 dalle pagine del Corriere Adriatico dedicate a Pesaro anche un bilancio della mostra dei fiori che si è appena conclusa e che si appresta a salutare il mare la prossima estate ritornerà in centro l'annuncio è stato formalizzato dal sindaco Biancani con la pioggia intanto caduta in questo weekend difficoltà per la viabilità e lunghe code sulla statale e proprio i problemi che hanno che ha comportato la mostra dei fiori sulla viabilità sono in qualche modo all'origine del ritorno al passato nel cuore della città come si legge appunto all'interno dell'articolo problemi alla viabilità che hanno riguardato in particolare Viale Trento e Viale Battisti dalle pagine pesaresi della Corriere Adriatico anche la giornata tradizionalmente dedicata al ricordo di Don Gaudiano l'eredità della solidarietà con la mission del CEIS per l'accoglienza Pesaro ricorderà la figura della prete degli ultimi nel 31esimo anniversario della scomparsa nella giornata di giovedì quando in particolare in mattinata il teatro sperimentale ospiterà la presentazione del progetto oltre l'indifferenza per la prevenzione della tossicodipendenza nel pomeriggio ci si sposterà a Palazzo Montani Antaldi con un incontro su cosa fa il CEIS di Pesaro per la città sul resto del Carlino invece per quella che riguarda il territorio spazio in particolare ad un altro evento il Festival del Giornalismo che si è chiuso ad Urbino dalle donne all'ambiente Urbino a tutto campo chiusa ieri la tre giorni dedicata allo sguardo femminile sulla cultura l'anno prossimo la Kermesse sarà dedicata al mondo del green donne e scienza i temi trattati nel corso dell'ultima giornata sempre per quel che riguarda il territorio dal Corriere Adriatico in questo caso altro evento la Fiera Nazionale del Tartufo che si è aperta nella giornata di ieri alla Fiera Nazionale del Tartufo un fiume di oltre 20.000 persone l'onorevole Baldelli che è anche vice sindaco di Pergola entusiasta il governatore Acquaroli fa i complimenti al governo della città all'interno dell'articolo le dichiarazioni del sindaco Sabatucci secondo il quale la nuova amministrazione comunale ha voluto dare una forte spinta per lanciare l'evento nel panorama delle manifestazioni più importanti nel settore e dopo essere riusciti ad ottenere il riconoscimento di filiera nazionale l'obiettivo è far diventare questo evento internazionale spostiamoci a Mondolfo dove verrà potenziato il sistema di video sorveglianza della Bartolini grazie ad un finanziamento della giunta regionale finanziamento che permetterà appunto di implementare nuovi sistemi di video sorveglianza circuito chiuso in sostituzione di quelli esistenti sempre dal territorio e in questo caso da Gabicce Mare l'inaugurazione della nuova sede di Confesercenti un punto di partenza viene indicato nel titolo il direttore provinciale Ligurgo afferma saremo in grado di dare risposte a 360 gradi a tutti i nostri associati la nuova sede sorge in via Romagna venendo invece a San Lorenzo in campo sempre il Corriere Adriatico evidenzia il ruolo che il comune retto dal sindaco dell'Onti rivestirà in questa settimana nell'ambito del progetto 50 per 50 capitali al quadrato toccherà San Lorenzo in campo esporre il vessillo da capitale della cultura vessillo ideale San Lorenzo in campo settimana da capitale questo è il titolo sulle note della tradizione il nome attribuito al programma che è stato allestito una settimana densa di appuntamenti alla quale abbiamo lavorato sodo in stretta sinergia con le associazioni afferma dell'Onti si parte stasera alle 21.15 sul palco del teatro Tiberini con il poeta paesologo Franco Arminio e adesso come sempre il lunedì spazio allo sport cominciando in questo caso dalla pallavolo e dall'esordio negativo della Smart System nel campionato di A2 di pallavolo la formazione di Mastrangelo era impegnata a Ravenna contro una formazione sicuramente tra le meglio attrezzate e che naturalmente è anche sostenuta dalla storia al pala De Andrè la Smart System non ha trovato spazio troppa Ravenna a domicilio esordio amaro per Fano si legge sul Corriere Adriatico la Smart System Essence Hotels cede il passo in Romagna brutto 3-0 da cui ripartire Virtussini che non sono mai riusciti a prendere iniziativa nel largo della gara troppe pause troppi errori è un diverso peso specifico in battuta con la squadra di casa che si è dimostrata anche più concreta negli scambi lunghi e in quelli sporchi restando alla pallavolo esordio con sconfitta ma con un punto in carniere per la Megabox nel campionato di A1 femminile Megabox che peccato titola e la Corriere Adriatico la formazione di pistola lotta con carattere a Firenze ma esce sconfitta al tiebreak contro il quotato Bisonte determinanti gli errori nella fase cruciale del match dopo aver dato l'impressione di poter vincere passiamo adesso al basket e invece alla vittoria che la Carpegna Prosciutto ha ottenuto nel secondo match casalingo consecutivo c'era l'esigenza di riscattare il passo falso alla Vitrifrigo Arena di metà settimana contro Vigevano missione riuscita la VL scaccia i malumori questo è il titolo Adellino K.O. dopo una vera battaglia l'ex Mussini è davvero irriducibile ma stavolta i lunghi funzionano e Pesaro vince lo scontro a rimbalzo risultato finale 82 a 77 il Corriere Adriatico si sofferma sulle prestazioni individuali dei Biancorossi di Sacripanti sottolineando come Lombardi abbia fatto di tutto di più il miglior marcatore dei suoi anche Zanotti fra i migliori De Laurentiis concreto King invece non ha ancora mostrato il suo vero valore le dichiarazioni rese dall'allenatore Sacripanti al termine bravi a punire i loro cambi si legge nel titolo il nuovo ruolo assegnato a Lombardi è stato premiato dal 4 su 4 nel tiro dalla lunga distanza rileva ancora lo stesso Sacripanti che ammette siamo fortunati ad avere questo pubblico un pubblico soddisfatto del risultato dopo essere uscito profondamente deluso dall'esibizione offerta appunto a metà settimana quanto invece al calcio è il campionato di serie D a tenere banco e in particolare il 2 a 2 che il Fossombrone ha ottenuto contro la Samre dei Teser a match di cartello fra due squadre d'alta classifica questo recita il momento del campionato anche se la Samre dei Teser ha obiettivi molto diversi da quelli della squadra metaurense Fosso e Samba a braccetto il titolo del resto del Carlino ospiti avanti per due volte ripresi da Casolla e Broso di fronte al pubblico delle grandi occasioni finisce 2 a 2 tra gol e tanto spettacolo le squadre ancora appaiate in classifica sono le uniche imbattute del girone il commento dell'allenatore dei padroni di casa Fucili prese due reti evitabili ma sono felice di aver allungato la striccia positiva Palladini dall'altra parte commenta sempre dal Carlino buona partita anche se avremmo dovuto chiuderla punto da non buttare quanto invece al campionato di eccellenza in cui figurano diverse rappresentanti del territorio da registrare la nuova sconfitta dell'Alma Juventus Sano 1906 di Salvatore Guida che perde anche dalla San Giustese che Arpione nel terzo posto in classifica i rosso-blu si impongono grazie ad un gol per tempo e continuano a volare mentre per quello che riguarda l'Urbania e l'Urbino le notizie sono decisamente migliori l'Urbino torna alla vittoria doppio montesi e Monturano KO secondo centro stagionale per i gialloblu di Mariani che hanno la meglio sul Monturano mentre per quello che riguarda l'Urbania passa sul campo dell'Atletico Mariner per 2-0 Urbania sempre meglio adesso è in zona play-off contro l'Atletico Mariner arriva la terza gioia di fila con la doppietta di Uniez infine sempre per il campionato di eccellenza anche lo 0-0 che il Montecchio Gallo ha strappato sul campo del Monte Granaro ed è tutto per questa edizione di Occhio ai Giornali vi ringraziamo per averci seguito e continuate a farlo grazie a tutti per averci seguito per averci seguito per averci seguito